Giovedì il ritorno del primo turno dei play-off nazionali. Alle 20.30 il Pescara sarà di scena a Salò con un solo risultato a disposizione. La vittoria al novantesimo. Non sono previsti i tempi supplementari. Fuori per squalifica. Pompetti e Derisio, altresì indisponibile. Dru di causa infortunio. Forse recuperato, ma solo per la panchina Paolo Frascatore. Il sistema di gioco non cambierà. Sarà ancora 4-3-2-1. Memusciai agirà da play con Giambo e Pontisso Mezzeali. Davanti a Sorrentino, Zappella, Ijanes, Ingrosso e Nzita. Davanti scontato l'utilizzo di Cernigoi con Rauti e Dursi. Se domani la corte sportiva d'appello, domani mattina alle ore 10, accoglierà il ricorso del club Biancazzurro. Altrimenti assai probabile l'impiego del baby delle monache. Sarebbe il debutto al primo minuto. In tal caso panchina per Clemenza. Feralpi invece, priva dell'infortunato Girgi, recupera Luppi. Differenziato oggi per il portiere De Lucia. In preallarme il secondo, Liverani, che ha giocato una stagione a Celano in C2 nel campionato 2010-2011. Nel 4-3-1-2 di partenza tra le linee di Molfetta. Davanti torna Miracoli dal primo minuto. Al suo fianco uno tra Spagnoli, favorito e guerra. Centrocampo, Guidetti dovrebbe prendere il posto del romeno Ergeligio, in difesa forse pisano e non legati con l'ex Bacchetti. In casa, ricordiamo, la Feralpi Salò ha perso solo due gare contro il Fiorenzuola. al debutto il 28 agosto scorso e contro la Provercelli il 16 febbraio. 0-3 per la squadra piemontese allenata da Franco Lerda. Ha conquistato in casa la Feralpi Salò ben 45 punti. Dirigerà Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Un solo precedente, ma con la primavera 2 nel Pescara, tra l'altro allenata proprio da Luciano Zauri il 2 febbraio 2019. quel Pescara, allenato appunto da Zauri, si impose a Lecce con il risultato di 2-1.